Riapperto il pronto soccorso di Oristano. Finisce agli arresti domiciliari un autodemolitore abusivo della provincia. I sindaci dell'Oristanese manifestano a Cagliari per una migliore sanità. Acqua non potabile nei rubinetti di Milis e Tramazza. Benvenuti, sono 405 i nuovi casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati oggi in Sardegna. Si registrano anche 23 decessi, 7 residenti della provincia di Sassari, 5 della città metropolitana di Cagliari, 5 del sud Sardegna, 3 della provincia di Nuoro, 3 di quella di Oristano. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 224 pazienti guariti più altri 216 guariti clinicamente. In provincia di Oristano si registrano 37 nuovi casi, mentre a Oristano città si registrano 5 nuovi casi e 4 guarigioni. Ancora a Sanità, oggi è stato riaperto il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano. L'area è stata liberata dai pazienti Covid. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. È stata riaviata intorno alle ore 13 l'attività del pronto soccorso all'ospedale San Martino di Oristano. L'area è stata completamente liberata dai pazienti Covid. Gli ultimi sono stati trasferiti nella giornata di ieri, 15 dicembre, e si è proceduto la sanificazione dei locali. Sono state inoltre introdotte ulteriori misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid ed è stata allestita un'area interna a vestizione e svestizione per il personale. Il servizio nei giorni scorsi non è mai stato totalmente sospeso, si legge nella nota diffusa dall'Asio Ristanese, ma ha continuato a prendere in carico i casi più urgenti. Contrariamente a quanto accadeva in passato, il pronto soccorso non accoglierà i pazienti con diagnosi Covid già accertata, ma solamente quelli con altre patologie o con sintomi riconducibili al nuovo coronavirus. Questi ultimi, come di consueto, seguiranno percorsi separati e verranno accolti nell'area OBI, ma grazie al più rapido collegamento con i reparti Covid dell'isola, sarà possibile disporne più rapidamente il trasferimento. Come sempre, la raccomandazione per tutti i civili resta quella di rivolgersi al pronto soccorso solamente in caso di effettiva urgenza e di ricorrere al proprio medico di famiglia. Parallelamente, continua la nota, è stata completata la temporanea riconversione del reparto di medicina interna in reparto Covid, con una capienza di 45 posti letto, mentre per lo stesso periodo al mastino di Bosa saranno accolti i pazienti che necessitano di ricovero in medicina. Sono operativi tutti gli altri reparti ospedalieri, continua sempre la nota, compreso quello di ortopedia, dove nei giorni scorsi si erano registrati diversi casi Covid, ma che non aveva mai interrotto completamente le attività, continuando ad accogliere e operare i pazienti trasferiti da diversi nosocomi dell'isola. La direzione della ASA ha disposto inoltre che venga sottoposto a tampone ogni 15 giorni tutto il personale ospedaliero, non solamente quello dei reparti maggiormente esposti al rischio di contagio, che già attualmente, come da procedura, esegue il testo molecolare con cadenza quindicinale. Un uomo di 35 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato denunciato per attività abusiva di autodemolitore, con il conseguente sequestro di due aree, con i relativi capannoni a Marrubiu e Uras. Sentiamo. È stato accusato di gestione illecita di rifiuti. La squadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Oristano, mercoledì 9 dicembre, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo già destinatario dal mese di maggio, di un'altra misura cautelare l'interdizione dell'esercizio dell'attività di autodemolitore di tutte quelle ad essa collegate. L'uomo venne raggiunto da quest'ultimo provvedimento in ragione della commissione del delitto del traffico illecito di rifiuto accertato dagli investigatori sotto la direzione del sostituto procuratore della direzione distrittuale antimafia di Cagliari Guidopani. In particolare l'indagine permise di scoprire un'attività totalmente abusiva di autodemolizione con conseguente produzione di una corposa quantità di rifiuti di diverse tipologie. Le auto e vetture demolite venivano dallo stesso indagato altresì radiate con modalità altrettanto illegali e penalmente rilevanti. Quest'ultima attività è avvenuta mediante il confezionamento di un falso certificato di rotamazione su cui veniva posto un timbro univocamente riferibile ad un altro operatore legittimamente autorizzato non residente in questa provincia. L'uomo ha sbaltito una quantità notevole di veicoli, circa 1600, materialmente trattati nell'ambito di due distinte zone ubicate nei comuni di Marrubiu e Uras. Ha tutt'oggi sotto sequestro onde scongiurare la prosecuzione dell'attività illecita. Tuttavia l'indagato ha continuato nella sua attività abusiva. Per questa ragione il GIP del Tribunale di Cagliari ha disposto nei suoi confronti un aggravamento del provvedimento ordinando la misura degli arresti domiciliari. E torniamo a parlare di sanità perché i sindaci dell'Uristanese hanno manifestato questa mattina sotto il Palazzo della Regione per chiedere l'invio di personale medico e infermieristico. Sentiamo. Ospedali al limite, chiusura di reparti, pronto soccorso in tilt, carenza di personale medico e infermieristico, liste d'attesa vergognose. I sindaci dell'Uristanese hanno manifestato stamattina sotto il Palazzo del Consiglio regionale e il motivo è sempre lo stesso. La sanità del territorio in affanno con la pandemia che ha amplificato una crisi di sistema già in atto da tempo. Ci servono infermieri e operatori sociosanitari, ha affermato il sindaco d'Uristano e presidente del distretto sociosanitario Andrea Luzzo. Credo che la cosa più importante sia la richiesta da parte nostra di un atto politico da parte del Consiglio regionale e da parte dei consigli regionali per dare la dovuta attenzione al territorio listanese, ma non solamente con le parole ma finalmente con i fatti. Vi posso garantire che io non molerò la presa, come i miei colleghi sindaci non moleranno la presa. Siamo parzialmente soddisfatti di quello che è successo ma vogliamo sicuramente nelle prossime settimane avere questo atto politico da parte dei consiglieri regionali che poi si deve assolutamente concretizzare in atti effettivi verso chi gestisce, verso chi può mandare dei medici, degli infermieri, delle OS o chi può tenere il pronto soccorso aperto finalmente per del tempo e chi può rivitalizzare la medicina territoriale che è uno dei problemi assolutamente più gravi. Diciamo che da un punto di vista formale abbiamo avuto le risposte che volevamo. Adesso nell'immediato futuro vogliamo anche i fatti e sicuramente l'atto politico che noi ci aspettiamo soprattutto dai consiglieri regionali del territorio spero che arrivi in tempi brevissimi. Il territorio avrà presto un direttore sanitario? Sicuramente abbiamo appreso che è riaperto il pronto soccorso, ci è stato anche comunicato che avremo un direttore sanitario solamente per l'AS di Oristano, quindi non un direttore sanitario che è diviso tra vari territori. Alcune risposte sono arrivate, soprattutto dal Presidente della Commissione Sanità Gallus, ma devo dire la verità, noi ci aspettiamo ben altro, ci aspettiamo ben altro soprattutto da un punto di vista politico. Vogliamo che l'attenzione sia focalizzata sul territorio di Oristano, con tutto il rispetto per gli altri territori, il territorio di Oristano in questo momento da un punto di vista sanitario è in piena emergenza. Abbiamo bisogno di un atto politico che metta questo territorio all'attenzione e che trovi delle soluzioni. Un cammino che ci deve riportare a quello che deve essere la sanità oristanese. La situazione è drammatica sia a livello centrale con gli ospedali di Oristano, Bose e Ghilarza, che per i presidi ambulatoriali territoriali indeboliti costantemente nel corso degli anni. Chiediamo più attenzione e rispetto soprattutto per le persone che stanno male e che hanno un bisogno costante dei servizi sanitari, ha affermato il sindaco di Terralba, Sandro Pili. Le criticità decennali sono state amplificate dall'emergenza sanitaria in corso. In questo momento non abbiamo la capacità di garantire il diritto alla salute dei pazienti, ha aggiunto il sindaco di Arborea, Manuela Pintus. E nel servizio che segue di Paolo De Sous ci si interroga sul futuro della sanità oristanese. Chi ci segue perdonerà il fatto che ripetutamente riprendiamo ed entriamo nel merito delle vicende sanitarie di Oristano e del suo ospedale civile. Si ribadisce che non si comprende come mai una struttura considerata d'eccellenza, come il nosocomio oristanese, sia stato invaso dall'epidemia di Covid che ha invaso reparti diversi, aggredendo pazienti e personale sanitario addetto. Ne è discesa una condizione di allarme per i saliscendi di aperture e chiusure a partire dal pronto soccorso, così com'è in questi giorni. L'opinione pubblica è di conseguenza confusa e smarrita per la contradditorietà dei provvedimenti via via assunti dalla direzione ospedaliera. A monte dell'attuale condizione, il sistema entro il quale hanno operato i vertici quasi mai aderenti alle esigenze di consolidamento e diversificazione della struttura sanitaria. Oggi il risultato è quello di essere in emergenza, senza apparenti vie d'uscita. Da quasi una settimana ormai a Milis e Tramazza, l'acqua non è potabile. Sentiamo. Ancora acqua torbida dai rubinetti di due comuni dell'Oristanese, Milis e Tramazza, quasi due settimane. Rimangono dunque in vigore le due ordinanze firmate dai sindaci Sergio Vacca e Francesca Piredda. È ormai nota a tutta la popolazione la situazione verificata negli ultimi cinque giorni dell'approvvigilamento idrico di Milis, situazione che riguarda anche l'abitato di Tramazza, ha affermato Sergio Vacca. I due centri sono approvvigionati da sorgenti ubicati a valle del complesso del Montiferru. Le piogge abbondanti, ha continuato il primo cittadino di Milis, hanno determinato una più intensa dinamica nella circolazione idrica all'interno del sistema montuoso, rimuovendo e trascinando particelle terrose che si ritrovano perciò nell'acqua in distribuzione, alterando il parametro torbidità. Da cinque giorni, pertanto, l'acqua delle reti di Milis e Tramazza è stata dichiarata non potabile e l'uso alimentare viene assicurato con autobotti. Il problema purtroppo non è attualmente risolvibile, si deve cioè aspettare che la torbidità diminuisca. Assistenza ai disabili, è nato il piano Ritornare a Casa Plus, sentiamo di cosa si tratta. Dall'unione del programma Ritornare a Casa e degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima è nato il piano Ritornare a Casa Plus. La Giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo 2021-2022 del programma che introducono importanti novità alla misura nata per favorire la permanenza al proprio domicilio e comunque in un ambiente familiare delle persone con grave non autosufficienza che diversamente sarebbero costrette a un'assistenza continua in apposite strutture. Il nostro, ha dichiarato il presidente Cristian Solinas, è un segnale di massima attenzione per le persone che soffrono e le loro famiglie. L'obiettivo è quello di rendere ancora più efficace e accessibile una misura che oggi in Sardegna dà sostegno a 4.000 beneficiari, persone che, grazie a ritornare a casa, possono ricevere l'assistenza di cui necessitano a domicilio circondati dall'affetto dei propri cari. Fra le principali novità introdotte, informatizzazione del processo di valutazione e progettazione delle misure da erogare all'interno del sistema informativo sanitario integrato regionale CISAR e l'assegnazione pluriennale delle risorse. Come tutte le manifestazioni che attirano migliaia di persone annullate per l'emergenza Covid, anche per la Sartiglia 2021 c'è il rischio che possa saltare. Sentiamo. Fondazioni di Oristano, gremio dei contadini e gremio dei faleniami girano intorno al dilemma se nel 2021 la Sartiglia verrà disputata o meno e sfogliando i peitali di questa margherita in attesa con le viole di comporre Savipia e Maio saltano gli adempimenti compresi nella prima parte dei rituali della giostra equestre. È stato così in occasione della festa dell'Immacolato primo appuntamento per il gremio di San Giovanni nel quale veniva ufficializzato il nome del capocorsa. Nulla di tutto questo con l'identico clima che si respira all'interno del gremio di San Giuseppe, l'insieme legato alle evoluzioni del virus e alle nuove ulteriori misure che si prevedono. Tace l'associazione Cavalieri che a due mesi di distanza dal 14 e 16 febbraio tengono i cavalli nelle scuderie evitando i normali allenamenti per la preparazione degli esemplari. La sensazione è che si andrà a saltare l'appuntamento principale e se così fosse sarebbe meglio evitare di far scendere in campo chi che sia e dar luogo a solitarie quanto ridico le esibizioni. In sostanza meglio lasciar correre e attendere tempi migliori. Gli operatori e gli utenti del Centro per l'Autonomia di Oristano in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'AS di Oristano promuovono la diciannovesima edizione della manifestazione natalizia sulla via dei Remaggi. Alla rassegna sono invitati a concorrere istituzioni, cooperative, associazioni di volontariato, scuole e private che potranno allestire un presepe nelle forme e nei modi più diversi senza alcun limite stilistico ed espressivo. Era questa l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazioni. Vi ringrazio per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima edizione del Tguristanese. Vi lascio ora con le notizie nazionali.